Amici 22, Malgioglio attacca Cricca, hai distrutto la reazione del cantante fa infuriare i social. Attimi di tensione nella terza prova della prima manche. Durante la settima puntata del serale di Amici 22. Cristiano Malgioglio ha criticato duramente l'esibizione di Cricca, che ha cantato grande grande grande. Covid ad Amici 22, due allievi positivi, prossima puntata a rischio. Ecco cosa sta succedendo. La terza prova è sempre quella decisiva, perché è l'ago della bilancia che decreta la vittoria o la sconfitta di una squadra. Nel serale di Amici 22 di sabato 29 aprile, la terza prova è toccata ad Aaron, Serbi Celentano, e Cricca, Cuccarini lo. Aaron canta sospicioso nindes, Cricca in cece grande grande grande. L'esibizione di quest'ultimo non entusiasmo cristiano Malgioglio che commenta, Cricca ha una bella voce però stasera ha distrutto. Una grande canzone. Il cantante del team Cuccolo non si scompone più di tanto e ribatte, tu sei affezionato alla versione originale. Ci sta, ma me la mia è piaciuta. Una reazione che come sempre ha scatenato le ire dei sociali a causa della poca umiltà dell'allievo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.